ciao sono william bisacchi di blog bisacchi.it e oggi voglio farti vedere uno scorrevole innovativo dal punto di vista dell'apertura infatti questo tipo di scorrevole è uno scorrevole che manca alla vaniglia come puoi vedere io faccio aprirlo semplice basta schiacciare un tasto lui mi fa vedere con i led sta sollevando l'anta e poi farà un senso di apertura sempre con i led mi fa vedere che sta aprendo l'anta mano a mano che si apre rallenterà la sua corsa per una questione di sicurezza se io tocco in questa posizione lui si blocca quindi non lo tocco per non fermarlo questa è una sicurezza lui rallenta ancora e mi consente di aprire degli scorrevoli di dimensioni molto grandi quindi con pesi molto elevati che con la maniglia sarebbero difficili da aprire questa maniglia è programmabile mi consente infatti con un tocco di chiudere o con un tocco magari prolungato di fare un'altra funzione in questo caso gli ho detto con una pressione prolungata chiudimelo solo una parte ma lasciami aperta una parte di scorrevole per poter adeggiare la casa infatti lui si chiuderà fino arrivare una certa dimensione come vedi lui rimane aperto fino a qua poi io comunque in ogni posizione lo posso fermare dove voglio è uno scorrevole che posso comandare anche con alexia con tutti i sistemi di controllo vocale oppure con lo smartphone ciao e al prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale